In un certo senso ciò che attende giovedì prossimo 21 novembre i 300 alunni della media Ligari di Sondrio sarà una sorta di nuovo primo giorno di scuola. La data infatti segnerà il ritorno nella propria sede di via Colombaro dopo il trasferimento chi al Pio XII e chi nelle aule messe a disposizione al campus da liceo Piazzi Perpenti, Istituto Besta e De Simoni. Trasferimento reso sì necessario in seguito alla devastazione della scuola da parte di vandali che ad oggi ancora risultano a piede libero. La marata scoperta fu fatta dal bidello la mattina di venerdì 27 settembre. Aule allagate, lavagne interattive distrutte, estintori scaricati che si sono tradotti in oltre 200 mila euro di costi per il ripristino. I lavori sono stati eseguiti a tempo di record. Abbiamo dovuto sistemare i soffitti che erano a rischio sfondellamento e ricomprare le lim, insomma sistemare tutto quanto era stato danneggiato. Gli operai hanno lavorato anche il sabato e la domenica per aiutare prima i trasferimenti dei banchi, un centinaio di banchi che abbiamo trasferito in altre sedi, ma poi per portare avanti tutti i lavori. Giovedì gli alunni non torneranno però subito in classe. È previsto infatti alle 7.55 all'auditorium Torelli un momento di riflessione collettivo su quanto accaduto che consentirà anche al personale comunale di trasferire il materiale utilizzato fuori sede in queste settimane. La dirigente scolastica ha voluto organizzare un momento di riflessione con i ragazzi, ha chiesto a noi di partecipare, noi parteciperemo con piacere anche un po' per festeggiare il rientro a scuola, ma in quel momento cercheremo anche di riflettere su questi atti che fanno male alla comunità. Studenti e docenti faranno poi il ritorno a piedi alla Ligari dove rimarranno sino all'orario previsto per il rientro a casa.